Si è chiusa a Castiglione del Lago l'Umbria Cup di beach volley maschile e femminile, tappa del circuito nazionale. 27 le coppie che si sono contese il titolo tra gli uomini, 12 tandem inseriti nel tabellone delle donne, atleti provenienti da tutta Italia e non solo dall'Umbria. L'evento è stato organizzato dalla FIPAV Umbria con il patrocino del comune di Castiglione.